Ha rischiato grosso il ciclista che venendo giù da un sentiero in un boschetto ridosso di Novilara si è trovato davanti una bella tavola chiodata messa di traverso e che non ha potuto in nessun modo evitare. Mi trovo esattamente nel punto in cui è stata lasciata la tavola chiodata, il rider veniva giù da questo sentiero, siamo a 50 metri dalla chiesa di Novilara per inerpicarsi su questa macchia, questo bosco. La tavola era qui di traverso, non ha potuto far altro che passarci sopra con le conseguenze poi di una caduta. Qualche scoriazione alle quali ormai il ciclista di mountain bike è abituato in anni di ciclismo e tante gare, un po' di spavento, una gomma a terra e la scocciatura di una uscita rovinata. Nulla di più fortunatamente, ma ciò che fa male e brucia non sono certo i graffi sulle ginocchia, ma vedere e constatare a quanto riescono ad arrivare alcune persone senza pensare minimamente alle conseguenze delle proprie azioni. Il ciclista, un padre di famiglia, due figli e una vita spesa ad insegnare ai ragazzi il piacere di andare su due ruote in mezzo alla natura, rispettosi dell'ambiente, avrebbe però potuto farsi male e seriamente, come anche i frequentatori del sentiero, spesso anche ragazzi, adolescenti, tutti amanti dello sport. E' questo che fa più male constatare che questo gesto è stato un vile e deliberato attacco con la ferma volontà di far male. Non è la prima volta, anche forse non sarà nemmeno l'ultima, che i bikers che viaggiano per boschi sono presi di mira per qualche nascosta e recondita ragione da chi reputa certi luoghi una proprietà privata invallicabile. Ma la natura è di tutti, anche di chi nel rispetto delle regole la frequenta e la rispetta, come fanno appunto i ciclisti off-road. Chiaro il messaggio del ciclista che vuole mandare a tutti, protagonista della disavventura. Prestate attenzione perché purtroppo la stupidità umana è sempre in agguato.